Allora, questa partita inaugurale del torneo delle stelle, sensazioni sulla forma fisica della tua squadra, sugli avversari? Sì, siamo una squadra nuova perché abbiamo creato un gruppo di ragazzi che comunque gli scorsi anni giocavano in squadre diverse. Però ci siamo uniti, abbiamo unito le forze, tra l'altro siamo tutti amici e abbiamo creato comunque una squadra competitiva. La prima partita è stata, l'abbiamo affrontata bene, siamo stati concentrati fin dall'inizio e per fortuna abbiamo portato a casa la gara. Si punta? Cosa avete intenzione? Avete un obiettivo dove potete arrivare o potete arrivare alla finale? Allora, il primo obiettivo è quello di divertirsi perché siamo un gruppo di amici. Poi si sa che quando si entra nel campo con l'agonismo si vuole vincere sempre. Io lo scorso anno sono arrivato in finale con un'altra squadra. Quest'anno l'obiettivo come sempre è quello di far bene e comunque di cercare di arrivare il più avanti possibile. E' in silenzio stampa ma è un nuovo calciatore della vostra squadra? Sì, lui oggi era in panchina ma dalla prossima partita sarà titolare perché sta recuperando la forma fisica. Va bene, allora in bocca al lupo mi raccomando, buon torneo. Ciao ragazzi, grazie.